buongiorno a tutti e benvenuti su sapore puro io sono katy e oggi prepariamo insieme il pollo al forno super croccante all'esterno e tenero morbidissimo all'interno iniziamo subito a sminuzzare due rametti di rosmarino schiacciamo due spicchi d'aglio e aggiungiamo al nostro trito uniamo dell'olio evo ho usato circa 30 ml un cucchiaino di sale una manciata di pepe meglio se in grani così avremo un aroma fantastico per comodità preparo il trito in un vasetto ecco intanto mio figlio passa ripulisco il pollo noi stiamo usando il petto oggi chiaramente questa ricetta vale anche per il pollo intero versiamo ora il trito e massaggiamo bene se avete tempo lasciate riposare in frigorifero per un'oretta inforniamo per 40 minuti a 250 gradi non vi spaventate è un forno normalissimo si chiama forno allogeno nel frattempo prepariamo la salsa io trovo che sia delizioso fatto in questo modo un cucchiaio di miele due cucchiaini di paprika piccante mescoliamo bene questa salsina è il segreto per la croccantezza del nostro pollo passati 40 minuti aggiungiamo la salsina e inforneremo per altri dieci minuti per il pollo intero la cottura dovrà essere di un'ora e mezza inforniamo sempre in forno ventilato il nostro pollo è pronto c'è un profumo pazzesco mi sa che scotta un po è meglio aspettare che si raffreddi un po per tagliarlo guardate quanto è tenera e morbida questa carne sul fondo della teglia si sono depositati tutti i succhi e questa salsina deliziosa anche se un petto di pollo intero cotto in questo modo rimane davvero molto soccoso spero che questa ricetta vi sia piaciuta grazie del vostro tempo in ogni caso fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto premendo il pulsante iscriviti e attiva la campanella noi ci vediamo nella prossima video ricetta grazie a tutti